Ok ragazzi, facciamo un minimo di introduzione prima di questo lungo video Ci troviamo a fine Ligure, non posso dirvi altro, comunque siamo belli in alto Come vedete c'è un gruppo di, non lo so, 40-50 persone Tutti amici, tutti casati per questa mega avalanche organizzata da Backcountry finale Sarà una figata, vedrete nel video, faremo un sacco di trail uno dopo l'altro senza mai fermarci Il cuore sempre al massimo più di 190 battiti E' una bomba, guardatela fino alla fine perché ci sono sorpassi fino all'ultimo minuto Dimmi un po' cosa stiamo facendo Non lo so nemmeno io Collega Marcello Come si può passare? Fai la fila Let's go E' un po' cosa stiamo facendo E' un po' cosa stiamo facendo E' un po' cosa stiamo facendo Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì 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 Oh, hai resistito All right 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 Ah e però però fai tutta la pista da solo sai che si può tagliare qua? si però fai tutto il pezzo da solo ma poi dove prendi? eh ma tanto giù non è divertente no 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 non sai tutto chi usa? no no Grazie a tutti. 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 Vai passare. Ok. 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 BÜNDNIS A. Ok. 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 Erovamo i primi. No. pensavo si finiva lì e non sapevo dove era l'arrivo no perchè ero con loro e non volevo fare lo scatto dell'antica grazie ma sei il primo? primo io ho fatto un errore la madonna a sprintare e poi ho detto no ma perchè sei proprio i coglioni sono sorprendente in decisione poi ho sofferto la salita poi sono ripreso e in discesa perchè ero dentro jack non è vero io comunque ho il video quindi abbiamo i tempi non è vero prego eh di più ma questa è la salita numero uno non sei caduta minimo 25 minuti no ma che infana vieto ma quanto è che sei così? che infana ma dove si tratta? no raga era inizio io non mi aspettavo ancora mai passato per ma come inizierò? sai come ha bucato? io lo so ma come inizierò? non so come ha bucato era attaccato a me ha preso le pietre ma quando mi hai fatto passare mi dice ha bucato si si ma non è stato più dall'inizio che gli frenavano dai no ma c'era un guardavo dove passavano gli altri così devo fare ciù per te porco dio no come la partita io ho inizio perso no 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 non n no non no 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 no